Plutone entra nella lista dei pianeti del sistema solare che potrebbero aver sviluppato habitat per una vita extraterrestre. In due ricerche pubblicate su Nature, infatti, sono state presentate le evidenze scientifiche che testimonierebbero l'esistenza di un oceano ghiacciato sotterraneo con una quantità d'acqua pari a quella di tutti i mari della Terra. Si trova sotto una spianata forma di cuore osservata sulla superficie del pianeta. Gli scienziati si sono basati sulle immagini catturate dalla sonda New Horizons della NASA.